Buon pomeriggio a tutti, bentornati all'appuntamento con Bookmania. Oggi abbiamo un piacevolissimo ritorno, ovvero diamo il benvenuto ad Alessandro Vanoli. Salve! È un piacere averti qui con noi questa volta in video perché abbiamo già parlato qualche mese fa di un tuo libro che ci aveva particolarmente colpiti, ovvero Primavera, la stagione inquieta, uscito per la casa editrice Il Mulino e ora sei qui con noi perché è uscito autunno, ormai già da un po', da qualche giorno mettiamo così, insomma è uscito in autunno. Questo libro è una sorta di seguito di questa quadrilogia che racchiude l'inverno, la primavera, l'autunno e poi prossimamente ci sarà chiaramente l'estate. Siamo molto curiosi di approfondirlo perché il sottotitolo è Il Tempo del Ritorno. Tra l'altro noi ci siamo sentiti precedentemente in primavera, dicevamo, durante il lockdown e so che in quel periodo stavi proprio terminando la scrittura di questo libro. Cosa ci puoi raccontare intanto della nascita di questo libro? Allora, cosa vuoi che ti dica? Il punto di partenza in realtà è a monte e cioè comincia con la decisione presa un po' prima, un paio di anni fa, di scrivere una quadrilogia. E quindi quello è il momento in cui a quel punto mi leggo alle stagioni ed è una decisione che in realtà mi ha dato un sacco di soddisfazioni, malgrado il lockdown, malgrado il fatto che Primavera sia uscita nella primavera sbagliata, mettiamola così. L'autunno è stato forse in qualche maniera partecipato maggiormente proprio anche per queste cose, forse per due cose soprattutto. Uno per il fatto che, lo ammetto, faccio outing subito e è la mia stagione preferita. Quindi in qualche maniera uno cerca di essere equo con i propri figli, ma temo di averci messo forse un carico, un carico d'aspettative perlomeno maggiore in quel libro. E in secondo luogo, non lo so se il lockdown ha fatto la differenza nella scrittura. Certo che era strano, perlomeno, scrivere in quello strano mondo vattato dove aveva smesso di accadere qualsiasi cosa, dove tutta la mia vita si era appiattita, come quella di tutti naturalmente. E non ho idea, devo essere sincero, se questo ha influenzato o meno la scrittura. Certo che perlomeno è stato un modo per tenermi in compagnia, questo è poco ma sicuro. Cioè quello che spero funzioni anche per i lettori, visto che la situazione non è proprio cambiata radicalmente. No, non esattamente. Insomma, da questo punto di vista è cambiata solo leggermente, ci auguriamo che lo sarà. No, ci auguriamo che passi in frettissima a questo punto. E una caratteristica dell'autunno, di questa stagione di mezzo, è quella della lentezza. Questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché noi forse prima del lockdown, prima del covid, eravamo abituati ad avere una vita molto veloce, molto cotta e mangiata, come si potrebbe dire. Mentre l'autunno e quest'ultimo periodo, se qualcosa ci ha insegnato, ci ha insegnato un po' a rallentare. È così? L'autunno è una stagione della lentezza? Io credo in parte perlomeno di sì, e spiego quell'in parte, perché l'autunno, come l'altra stagione di mezzo, ha molte caratteristiche diverse, a seconda del punto da cui la guardi. L'autunno può assomigliare anche a un pezzo di estate, in realtà per gli antichi è stato proprio così. Cioè gli antichi guardavano l'autunno guardando soprattutto la sua prima parte, quella settembrina, e quindi la vedevano come un finale d'estate, quindi pieno di frutti maturi, dei festeggiamenti per la vendemmia e cose del genere. Quando la guardi dal punto di vista più invernale, in realtà ne cogli quell'aspetto che è tipico del freddo, cioè del momento in cui la natura comincia a rinserrare le fila, a chiudersi, a tacere sempre di più, a rallentare, appunto. E quella parte è anche estremamente autunnale. Io credo che in fondo recuperare quel senso non faccia male, cioè ricordarci che noi siamo un pezzo di natura e la natura quando arriva il freddo e quando arriva il momento in cui la luce comincia a calare, a quasi a dominare il ritmo della giornata, insomma noi come tutto il resto della natura a cui apparteniamo noi dovremmo rallentare un po'. Insomma c'è una buona lezione da imparare da tutto questo o da ricordare, visto che per un sacco di tempo l'abbiamo dimenticata. Ecco, magari in tutte le scalogne che ci ha portato il lockdown, forse provare a ricordarci che non fa male rallentare un po', beh, ecco, questo potremmo dire che è molto autunnale. Ecco, tra l'altro un aspetto che ho notato sia nel tuo libro precedente che in questo è quello del profondo rapporto dell'uomo con la natura, soprattutto nel passato. Un rapporto che in un qualche modo è stato dimenticato nell'era moderna, ma che comunque è alla base di ognuno di noi, è nelle nostre fondamenta e in qualche modo lo stiamo un po' riscoprendo. Io credo, o forse io spero di sì, che è una cosa un po' diversa da credere, in effetti se uno fa banalmente un gioco con se stesso e prova a pensare che cosa voglia dire per lui l'autunno, ad esempio, o la primavera, io credo, spero per lui, per chi stia facendo il gioco, che gli verranno in mente degli esempi di carattere naturale, penserà ai fiori in primavera, penserà alle foglie secche d'autunno, insomma, spero di sì, spero che non pensi per forza a un marciapiede, ecco, cioè, tutto sommato gli esempi naturali dovrebbero essere quelli che saltano di più facilmente alla mente. Ecco, questo potrebbe essere anche la banale spiegazione del fatto che le stagioni ci ricordano che noi siamo natura, cioè, se c'è una cosa che noti studiando le stagioni, che non puoi studiarle, che pensando all'uomo in mezzo alla natura, perché è quello di cui è fatto quel ritmo. E quindi sì, abbiamo bisogno forse di reimpararlo e forse magari, chissà, davvero lo stiamo un po' imparando. Certo è, sicuramente, che per la prima volta dopo tantissimo tempo abbiamo alcuni, una parte del nostro mondo ha una coscienza ambientale sicuramente nuova. Abbiamo una sensibilità nei confronti degli animali che non abbiamo mai avuto nella storia umana, incidentalmente. E non so mica dirti che sia proprio questo un buon segno, sai, perché in realtà quando si è parte della natura, te ne freghi degli animali, cioè gli animali si mangiano tra di loro, gli animali non provano tenerezza nei loro confronti, nei reciproci confronti. Questo enorme sovraccarico di empatia e di affetto in realtà denuncia proprio il fatto che noi siamo lontani dalla natura. Poi sai, io sono un possessore amante di gatti e mi circonderei di qualsiasi animale, quindi ovviamente io lo dico sapendo che sono il primo a vivere poi la cosa con questo tipo di dissidio. Però in ogni caso, qualsiasi sia il nostro problema, è evidente che ci stiamo pensando. Per la prima volta ci stiamo pensando. E quando si pensa tanto a una cosa vuol dire che potenzialmente siamo anche sulla strada per provare a trovarne delle soluzioni. In questo caso mi riferisco al fatto che è il nostro rapporto spezzato con la natura che ha bisogno di soluzioni. Non sono quello migliore per dire come bisognerebbe fare. Già pensare che ci manca e che ne abbiamo bisogno è un punto di partenza, mettiamola così. Sì, in questo periodo poi mi dispiace tornarci perché in realtà il libro non tratta l'argomento di attualità. No, me ne sono guardato bene, sai. È fatto benissimo. Però in effetti vedo tantissime persone che hanno questa necessità di ritornare in un qualche modo a fare una passeggiata nei boschi o comunque della natura. Quindi in un qualche modo forse qualche soluzione si sta in quanto tale cercando, insomma, perché ci si trova a stare meglio. E a questo proposito mi viene in mente, tu parlavi di memoria, parlavi anche di fare dei conti, di ritornare indietro. L'autunno è un po' anche questo? Un tempo di bilanci? Mi sa di sì. Io credo che lo sia per un po' di motivi. Probabilmente forse il più evidente è uno strano rapporto che noi esseri umani abbiamo con le stagioni. Da sempre, da quando c'è letteratura nel mondo, perlomeno, c'è anche questa metafora, questo parallelo che poeti e scrittori fanno e che noi tutti in parte facciamo, tra la nostra vita e le stagioni. Guardiamo la primavera come il momento della prima giovinezza, guardiamo l'estate come al momento della finalmente raggiunta maturità, guardiamo all'autunno come il momento in cui metaforicamente torniamo sui nostri passi. Stiamo crescendo, stiamo ormai un po' invecchiando, poco ecco, poi ci sarà l'inverno naturalmente, però cominciamo a fare i conti. Io sto nell'autunno, 50 anni, mi metto lì. Credo che ci sia del vero, obiettivamente, al di là di tutto. È un rapporto talmente evidente, talmente forte, che viene da pensare che davvero nasca prima di qualsiasi riflessione, quasi automatico. Insomma, la prima volta che lo vediamo in Omero, come le foglie, eccetera, eccetera, gli uomini e quant'altro. Ecco, questa cosa inevitabilmente porta a un guardarsi dietro, probabilmente. L'autunno è la stagione forse migliore in questo senso. E l'autunno è quel momento in cui, forse per quel rallentare, forse perché anche solo banalmente le luci si spengono prima, quelle del cielo, e allora forse in qualche modo devi fare un po' di conti. Quindi è una metafora in parte, certo che è una metafora, però probabilmente è anche una condizione che la natura in qualche modo un po' ti impone. E tra l'altro all'interno del libro ci sono alcune immagini. Mentre parlavi mi veniva in mente questa immagine, adesso la faremo vedere, di una foglia autunnale. Questa qua, vediamo se riusciamo a vedere qua. Aspetta che mi metto gli occhiali a posta per riguardarmela bene. Non ce n'è bisogno, la so, la so, la so. Esatto. E' Raskin, Raskin. Mettiamo beneficio dei nostri spettatori, perché la parte artistica è molto importante anche all'interno del libro e ci fa capire anche quanto ci sia differenza nel corso dei secoli, perché ricordiamo che comunque il libro parte dalle origini, quindi siamo davvero indietro nel tempo, e quanto si è cambiata anche la nostra percezione dell'autunno. Fino a una certa epoca era legata veramente alla natura. Dopodiché si è un po' più slegata. Ma a un certo punto è stata notata anche dall'arte. Ah, beh, sì. E in realtà da sempre, fondamentalmente, l'arte in qualche maniera lo racconta. Anche se lo racconti in una maniera un po' mediata. Adesso non vorrei fare quello pedante, che poi la gente pensa, oddio, sarà un libro pesantissimo. Invece non lo è. Il contratto. Almeno ci provo. No, in realtà se si guardano ad esempio le raffigurazioni dell'autunno, e dovremmo dirlo al femminile di Opora dell'autunno greco, quello antico, ad esempio in certe raffigurazioni di basi per il vino del V, del IV secolo avanti Cristo, beh, l'autunno ha le forme di una bella donna che porta un vaso o un vassoio colmo di frutti maturi, colmo di doni proprio. È quell'idea che dicevo prima, l'idea molto estiva dell'autunno, che è stata l'idea degli antichi, l'idea dei greci, poi dei romani. Quando lo si dipinge nel Medioevo, l'autunno ha il ritmo dei lavori stagionali. Lo si trova ad esempio nelle miniature dei libri d'ore, cioè sono quei libri devozionali che si usavano per le preghiere durante l'anno e quindi per questo tendevano a raffigurare passaggio dopo passaggio tutti i vari momenti dell'anno. E lì l'autunno ha i ritmi classici del rapporto agricolo con la natura. Quindi c'è la vendemmia, poi c'è l'uccisione del maiale a proposito dei discorsi che facevamo prima sul rapporto molto diverso che c'è adesso nei confronti della natura e via dicendo. Per arrivare a quella roba che noi pensiamo sia l'autunno nostro, cioè quello più malinconico, poi magari dopo ne parliamo, però bisogna arrivare attorno al Cinquecento. Prima quelle cose non si notano. Bisogna cominciare a vedere ad esempio gli accenni di Caravaggio, di come disegni, di come dipinga il volto di un bacco, che normalmente è un tizio estremamente esuberante nella tradizione raffigurativa classica, ma in Caravaggio diventa un tizio malato, malinconico, si potrebbe forse esagerando un po' dire. E per arrivare a una foglia secca, quella di Rustin prima, siamo nell'Ottocento pieno, ci è voluto quel tempo lì. Nessuno ha notato le foglie prima. Per arrivare a vedere in una foglia secca un oggetto di possibile arte, bisogna arrivare al momento in cui la natura è stata guardata con tanto distacco da farne un'analisi scientifica, per poi ritornare indietro e dire va bene, ok, allora forse oltre all'analisi scientifica questa foglia assomiglia a tante cose, a una mano ad esempio, a una cosa raggrinzita che però ha in sé la sua bellezza, quel marrone che stacca con l'azzurro dello sfondo e via dicendo. Ecco l'arte di quell'autunno che noi conosciamo in realtà è una cosa recentissima e ci dice quindi che quell'autunno che noi conosciamo è una cosa recentissima. E tu hai accennato un altro aspetto interessante e che viene evidenziato anche sul retro di Copertina, un viaggio struggente nella stagione malinconica. Malinconia è in effetti la caratteristica che noi forse diamo più facilmente, le nebbie, no? Non so se vi ricordate quella scena meravigliosa di Amarcord autunnale naturalmente e molto da pianura padana incidentalmente, quella della nebbia che avvolge tutto quanto, io sono un bolognese quindi per carità per me la nebbia quando c'era ancora era una caratteristica vera dell'autunno. Ecco quella malinconia è tanto una cosa antica quanto una cosa recente, mi spiego. Quella malinconia per gli antichi faceva parte proprio dei rapporti necessari che il corpo aveva col cosmo. Noi eravamo fatti di umori, quattro, dicevano gli antichi, e questi umori a seconda del periodo dell'anno, dell'umidità, del clima, eccetera, eccetera, potevano esondare, esagerare, diminuire. Quando c'era troppo bile nera, il rischio era quello di diventare eccessivamente depressi oppure eccessivamente folli anche, fino addirittura al suicidio potenzialmente. Ecco quella malinconia, perché quello vuol dire bile nera, è malinconia in greco, era la base di quel problema e guarda caso ovviamente quella malinconia cresceva, quella bile nera tendeva a crescere quando? In autunno. Esatto, questa però è una spiegazione medica, quello che noi attribuiamo alla malinconia, quello stato di introspezione, di fatica, eccetera, ecco, quella invece è la parte moderna, quando noi cominciamo a guardarci dentro e a riflettere su noi stessi come pezzi di un corpo complicatissimo, fatto di psiche, di anima, certo lo diceva già Aristotele, però quando ci arriviamo a pensarci così, quando pensiamo alla nostra psicologia, ecco, siamo diventati un'altra cosa, siamo diventati quegli esseri un po' più soli, molto introspettivi, che sono la caratteristica di ciò che è l'uomo dall'età moderna in poi e guarda caso anche malinconici d'autunno. E questo è un po' un sunto di tanti argomenti che sono all'interno del libro Autunno, il tempo del ritorno, di Alessandro Vanoli, pubblicato da Il Mulino per le stagioni, ovviamente, e devo dire a scasso di equivoci, è un libro che si può leggere davvero in tantissime maniere, si può leggere anche come un libro di racconti, se lo chiediamo da questo punto di vista, può essere un bellissimo libro di racconti, il cui tema principale è proprio quello della stagione, dell'autunno, ma può essere letto anche da chi ama l'arte, da chi ama la storicità, perché comunque ricordiamo che tu sei uno storico anche tra le tante cose, oltre che ovviamente sei scrittore, ma sei anche un abile narratore, quindi c'è tutta l'evidenza di queste caratteristiche anche all'interno di questo tuo ultimo libro, come dei precedenti che ovviamente consigliamo sempre di recuperare, quindi è tutto meno che noioso questo libro e la lettura, anzi, è adatto secondo me a un pubblico davvero variegato e soprattutto amante di questa stagione così malinconica, ma allo stesso tempo così bella. Io ti lascerei un'ultima volta il microfono virtuale, in questo caso, che abbiamo se vuoi mandare un messaggio a proposito del tuo libro. Ma guarda, io fatico sempre un po' a promuovermi nel senso più secco del termine, anche perché facendolo di mestiere, scrivendo storie per il gusto di scriverle e di raccontarle, e per la speranza di fare, come ti dicevo prima che andassimo in onda, di fare buona compagnia ai lettori. Te lo chiedi sempre se ci hai preso, cioè non lo sai in realtà. La tua idea e il tuo scopo è proprio quello, è che alla fine chi ti legge non abbia imparato delle cose. Certo, se l'ha imparato è ancora meglio, ma ti scriva dicendoti, guardi, sai che mi sono proprio divertito. Ecco, questo credo che sia il complimento più grosso che mi si possa fare. E naturalmente non lo sai se ci riesci, perché ci provi, ma quando sei dentro la storia, tanto per cominciare, è molto difficile vedere il resto, quello che ti circonda da fuori. E quindi non hai più la percezione di che cosa sarà per un altro, perché ci sei talmente dentro tu che puoi avere il mestiere che vuoi, ma in quel momento speri solo di stare facendo la cosa migliore che ti viene in mente. Puoi avere il mestiere, puoi avere l'abitudine, ma tutte le volte te lo chiedi come se fosse la prima. Ci riuscirò a essere piacevole per i lettori. E il resto è quello che speri, cioè che funzioni. Quando racconti una storia come quella dell'autunno, lo fai, certo, forse anche per raccontare qualche nozione che magari non è scontata. Sapevate che c'è una bella differenza tra gnomi e nani? Ad esempio, nel libro si impara anche questo. E sapevate che rapporto hanno con i funghi? Nel libro c'è anche questo. Ma al di là dell'aspetto, diciamo, strettamente tecnico, rimane la cosa a cui tengo di più, e cioè quell'idea di un racconto, perché quello ho provato a fare, che possa essere sufficientemente forte, trascinante, per poter far pensare a chi mi legge la stessa cosa che ho pensato io, che valeva proprio la pena trascorrere tutti gli autunni che ho trascorso, perché nel filo della memoria scopri l'importanza che hanno avuto, l'importanza che hanno avuto per la tua vita, l'importanza che hanno avuto nel rapporto, appunto, come dicevi tu, con la natura, e nei bisogni che questo può trascinare, cioè nel bisogno di recuperarlo, questo rapporto. Insomma, alla fine dei conti, l'unica cosa che posso dire di questo libro è che è una seria parte di me, un'onesta, spero, parte di me, e la speranza che ci metti dentro è che rifletta, in quel po' di onestà che provi a metterci quando fai le cose, anche una parte, in fondo, importante anche dei lettori. Quell'autunno mio è l'autunno loro, è l'autunno di tutti, in realtà, ed è quello che lo rende importante, non il fatto che abbia provato a raccontarlo, è che ha senso provare a ricordarcelo, ha senso, appunto, tornare a quell'autunno. Ed è un bellissimo messaggio che appoggiamo, insomma, siamo sicuri che i lettori non potranno far altro che appassionarsi a questo racconto con protagonista, l'autunno. Un grazie, quindi, ad Alessandro Vanoli per essere stato con noi. Grazie mille a te e a tutti coloro che ci hanno ascoltato e speriamo di rivederci prestissimo e naturalmente questa volta, seriamente, dal vivo. Erika Zini presenta Bookmania Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero Go tell a friend Bookmania, dove il libro è protagonista in un'altra via